In questi giorni l'ANAS sta procedendo al taglio di numerosi alberi lungo le strade provinciali, in particolar modo sulla SP259, per presunte ragioni di sicurezza. Su questa decisione hanno preso posizione gli ordini degli architetti, pianificatori paesaggistiche e conservatori e dei redottori agronimi e forestali per chiederlo stop agli abbattimenti e la costituzione di un tavolo di lavoro che permetta di conservare gli esemplari sani e di adottare misure di sicurezza per circolazione alternative all'eliminazione delle alberate. È una questione di buonsenso prima che di normative. Purtroppo l'ANAS, in una risposta alla nostra lettera, ha affermato che loro agiscono per motivi di sicurezza, motivi di sicurezza che esistono ma non possono prescindere da altre caratteristiche che hanno gli alberi lungo le strade, come quelle paesaggistiche, ma quelle di tutta una serie di servizi ecosistemici che sono anche utili a salvare vite umane. Tra l'altro la SESANA si afferma in uno studio commissionato qualche tempo fa che la causa maggiore degli incidenti è la distrazione, oltre alla velocità e oltre ad altre cause. Quindi semmai gli alberi lungo le carreggiate, ma anche i recindi lungo le carreggiate, i tabelloni, le case possono aggravare incidenti che accadono quasi sempre per cause umane. Quindi se vogliamo creare le strade exurbane come circuiti con una fascia di 6 metri ed oltre, priva di ogni manufatto, di ogni vegetazione, magari con pile di pneumatici come i circuiti di Formula 1, basta dirlo, che siano d'accordo tutte le amministrazioni, che siano d'accordo i cittadini, noi prendiamo atto e chiniamo il capo e andiamo avanti. Porteremo il problema in ambito nazionale perché il codice della strada va modificato, va chiarito, nel senso che la questione non può essere solo prettamente infrastrutturale e automobilistica.